eccoci studio per la nostra consuetà anzi torna a trovarci in questo periodo difficile il nostro meteorologo filippo terri ciao filippo buonasera grazie buonasera a tutti allora però so che ci hai portato delle foto che ci fanno capire quanto siamo piccoli nell'universo no sì esattamente oggi ho scelto di portare alcune delle immagini non solo più celebri ma più evocative nella storia del genere umano questa la commentiamo già due anni fa nel suo trentennale è stata infatti ripresa il 14 febbraio del 1990 stavamo uscendo dalla guerra fredda dalla sonda voyager 1 che è giunta a 6 miliardi di chilometri dalla terra riprese questa immagine quelle bande colorate che vedete sono solo delle aberrazioni ottiche della lente nell'intercettare i raggi solari ma quel puntino bianco quel granello di polvere azzurrastra sospeso dall'immensità del cosmo è il pianeta terra l'unico punto dell'universo noi noto in grado di ospitare la vita la morte può essere ospitata indifferentemente in qualsiasi punto dell'universo la vita soltanto almeno per quanto ne sappiamo in quel piccolo pixel questa è una rielaborazione che simula la stessa immagine con la risoluzione attuale fra le tantissime parole che sono state spese in questi trent'anni per spiegare la potenza evocativa di queste immagini le più belle rimangono quelle di colui che suggerì alla nase di realizzare questa immagine Carl Sagan che disse fra le altre cose pensate ai fiumi di sangue che sono stati versati da imperatori e generali per rendersi padroni per una frazione di attimo nella vita dell'universo di un piccolo di una piccola porzione di quel pixel questa fu una questa è stata una delle degli omaggi a quelle immagini realizzate dalla sonda cassini nell'aprile di cinque anni fa e quelli sono gli anelli di saturno in primo piano e aguzzando la vista si vede non solo la terra ma anche la luna quel pixel più piccolo a sinistra michael collins uno dei tre astronauti dell'apollo 11 la missione che portò al primo storico sbarco sulla luna il pilota del modulo di comando quindi l'unico essere umano che non compare in questa foto i suoi due compagni di missioni sono lì nel modulo lunare aquila che sta rientrando dalla superficie della luna il resto dell'umanità è lì sullo sfondo se chiunque potesse vedere la terra galleggiare fuori dalla finestra come me scriveva un anno fa poco prima di morire michael collins e tutti capirebbero che ogni giorno e la giornata della terra e che la terra la cosa più bella e più fragile da proteggere tutti insieme l'umanità tutta insieme sono le stesse parole praticamente che queste erano lo statunitense collins ma richiamano quelle che 50 anni prima pronunciò il sovietico yuri gagarin la terra è blu la sua prima meraviglia e poi è bellissima senza frontiere nei confini chiunque sia andato nello spazio di qualsiasi paese fosse originario ha provato la stessa emozione e ha detto le stesse cose vedendo l'umanità come un'unica entità sotto lo stesso tetto della stessa casa sono veramente frasi importanti è stato bello poterle dire qui con te perché spesso parliamo di natura di quanto è bello preservare l'ecosistemi la vita sulla terra queste immagini ancora di più mostrano a volte quanto siamo piccole quanto è prezioso il gioiello lue verde che razzola nell'universo in cui viviamo